Buongiorno, buongiorno amici, oggi è sabato, un nuovo vlog, quindi, sabato, sono appena tornata da scuola, devo mettere un pochino a posto la camera, to do, ho una lista esagerata di cose, tra cui cambio dell'armadio, fare una torta, organizzare un casino, questi sono i miei vibes di oggi, un po' da nonna, ho questo outfit, che ora devo farvi un video outfit, back to school, così ho tutto perline, vabbè, oggi sono una nonna, stissimo, vado a fare la spesa in fast, tipo un mega veloce con mio padre, perché per così ho tutta la mia spesa sana, le cose che voglio io, E' bellissimo fare la spesa, 100 domandi, io farei spese sempre, costantemente, adoro fare la spesa, super fast, pane, magro, non magro, non si sa, pane, merenda a scuola, questo che mi ispirava, perché senza zuccheri, però oggi è il normalissimo cioccolato, questa proteica, che vi saprò dire se mi ispira, se è buono, questi che sono la droga, e questa, finita la parte proteica, frutta, verdura, caffè, tacchino, salume, vario, così, e basta, questa è la mia parte. Questa sera vado a dormire in ragazzo, notte, voglio tipo fare una torta, una torta che voglio fare da un sacco, che alla fine non ho mai fatto, quindi adesso farò una torta, così faccio una bella impressione, e vediamo se mi riesce. Per ora devo far sciogliere 200 di cioccolato fondente con 100 di burro a bagnomaria. Ora se devo mettere gli albumi, che è una cosa che io ho, ho un deficit, per farlo, e non mi verrà mai, e poi montare gli albumi a neve, altra cosa che ho un deficit e non riuscirò mai a fare, ma a parte questo, sto anche facendo un vlog per TikTok oggi, e vi vorrei parlare di una mia crisi di questo tempo, cioè che sono un po' in crisi con TikTok o YouTube, non so mai se portare un contenuto su un social, su un altro, su un casino, vabbè. Adesso comunque proverò, 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 ma ecco, che mi è caduta la tuolla! Vi do una ricetta strana che ho provato, ecco, che si è rotto, vedete come sono sbagliata in cucina? Una volta ho fatto i macaron quando ero piccola, adesso non c'ho più voglia, cioè non c'ho proprio due sbatti di carne e mangiare. Ma è troppo io che tolgo sempre zucchero, olio, burro, quelle robe lì, se a 100 grammi con me diventano 30, ma... Ok, albumini mettiamo un attimo qua da parte, albumini con un po' di tuorlo, con i tuorli aggiungiamo 200 di zucchero, e poi mochiamo tutto insieme e qui si stanno sciogliendo il cioccolato e il burro che devono un po' raffreddarsi, le aggiungiamo nel composto con i tuorli. L'unico programma che io voglio andare a ballare è tipo alle 6, perché oggi ho la seconda esibizione di 3 che ho questo weekend, perché sì, raga, sto facendo Sony Pop, chi mi segue negli altri social sa... è un casino! Quindi oggi ho la terza, perché c'è tipo nella mia città una cosa che si chiama Ferrara in Fiava. Il cioccolato si è tipo fuso alla perfezione, raga, non vi dico il profumo di questo cioccolato col burro. Qua ne frate per rotto una cremina che tipo sembra carbonara, bellissima. Ho montato gli albumieri perché sono riusciti, guarda che belli! Ok, ora nel composto con i tuorli e lo zucchero ho aggiunto 50 grammi di farina, vado ad aggiungere il burro e il cioccolato, dopodiché metto gli albumi e vado in forno per 30 minuti. Attenzione a mettere gli albumi nel composto perché si smontano tipo dal basso verso l'alto. In periodo ho anche pensato di andare alla scuola all'alberghiera, però ho capito che in realtà la cucina è un hobby, cioè mi piacerà far da mangiare, fare le torte ai miei bambini quando sarò madre. Ora metto un pochino a posto la camera che devo fare il cambio del mondo da tantissimo tempo, non ho ancora fatto un nuovo tempo, raga, sono stanco. Ok raga, io mi sto finendo di preparare per lo spettacolo, è chiaro che non faccio il tempo andare tanto in centro come pensavo, però vabbè. Trucco stra-leggero perché non ho voglia di fare cose esagerate, quindi semplicemente un po' di eyeliner illuminante, è molto 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 semplice. un pack da saggio barra, non lo so, è molto molto semplice. Mi sa che mangio qualcosa perché ieri non ho mangiato niente e non avevo energia, quindi mi mangerò qualcosina di molto molto wiki e poi volo. Buongiorno. Guarda quanto una sera, ieri. Però è stato un totale, non ho avuto tutto. A partire dal fatto che non ho ballato, perché fioveva e balza tutto. Perché balza sempre tutto quando faccio il lock, non lo so. Oggi domenica, a parte questa cosa gigantesca che ho, che non so come fare, vuol dire sono capelletti, quindi sto preparando il pranzo con i miei. Adesso il programma è studiare, assolutamente, perché ieri non ho aperto il libro e ho te a verificare la settimana prossima che mi aspettano, quindi è mortale. Oggi ma c'è un po' di brutto tempo, quindi in realtà secondo me potrebbe anche saltare. Studio, faccio un testo su cosa votare, perché io devo andare a votare oggi per la prima volta nella mia vita e non farò mai più un vlog, perché ogni volta che faccio i vlog, le giornate e le cose in generale devono andare male. Sto dicendo che adoro, adoro l'Eleaner come l'ho messo, mi piace un sacco. Devo imparare a metterla sempre così. Io sono pronta per uscire. Il programma è di andare in un bale in centro, studiare tipo un'oretta e mezza, andare a ballare e poi dopo mi trovavo, insomma, tornavo fuori. Io spero che continui a piovere così balza il ballo, posso studiare con le altre in centro e poi dopo uscire. Mi è venuto il ciclo ovviamente in questo momento, yuhu! Mi hai visto proprio di merda, allora ho reso, guarda qua cosa mi è uscito, un mostro malino! Ora vedo fuori a cena, gioco a Matteo, dopo lo spettacolo sono andata a casa a cambiarmi stra in fretta, ho outfittato il play perché sì. E niente, ora ve lo faccio vedere, ma semplicemente lo raggiungo, facciamo aperitivo, poi forse andiamo a cena dove eravamo qualche sera fa, e niente. Peritivo con Matteo, poi ho raggiunto gli altri per l'americatino europeo, che non l'ho fatto tutti perché ovviamente non li faccio mai, mi dimentico. L'ho mangiato un botto, ho mangiato un botto di fritto, giuro, ho mangiato un corn dog, che l'ho mangiato con Matteo l'indiano, non ho mai provato l'indiano, molto buono, c'è un tipo di polpettini, melanzane, formaggio, dei triangolini fritti, e robe fritte. Per sgravare al massimo avevo preso pure un ciurro stigliante, uno schifo. Domani ne ho partiti con i buoni propositi del lunedì, cioè, so che è sbagliato perché la dieta non è mai iniziale al lunedì, però davvero lo riprende perché uno sto sgravando con i soldi, sto sgravando con le calorie, e proprio tante sgravate. Lo so che devo essere super produttiva. e a vedere anche di mio Matteo, perché vedendo così tanto Matteo, pochissimo tempo per stare con me. Guardate come ci siamo voluti oggi. Buongiorno, oggi con l'aceto è diversa. Allora, 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 oggi è lunedì, ho appena pranzato, e ho avuto un po' di momento di relax con TikTok, eccetera, con i social, adesso non mi so proprio male, raga, cioè, non ho proprio più motivazione di fare niente, vabbè. Adesso mi metto subitissimo sotto con lo studio perché è necessario, dato che ho una verifica mercoledì di italiano e dopo c'è una di inglese. Devo capire come organizzarmi con lo sport, perché oggi ho due alternative. Questa settimana qua voglio provare vari sport e studiare tanto, qual è la mia motivazione? Voglio eliminare cene fuori, aperitivi fuori e distrazioni, voglio focalizzarmi su cose, voglio che sia una settimana produttiva perché davvero sto procrastinando, vediamo se ce la faccio effettivamente. Sto studiando, raga, sono le 3.40 ormai. Sa che andrò a piedi a casa di Matteo, studio un pochino da lui. Faccio una mini skin care, vi raccontro la mia giornata passata temporale, sono le 8. Stato per una camminata in centro con lui, raga, io giuro, cioè non so come faccio a sopportarmi quel ragazzo, sono... Lui è un costante tipo, no, chill, raga, stiamo letto, guardiamo un film, lui è molto tranquillo, guarda, è molto grande. E io invece sono tutto l'opposto, io sono totalmente un... Andiamo a camminare, facciamo qualcosa, muoviamo, insomma, boh, ragazzi. Io, prima o poi, mi ucciderà, mi si stancherà di me perché... Adesso ne metto un'altra sentita via e ucciderà. Ma è palese che mia sorella me li usa, eh, ragazzi, cioè, sicuro me li usa. E ora devo riuscire a non avere i sensi di colpa per non aver fatto una particolare attività fisica, perché va bene anche così. E sperare che domani questo qui non ci sia più, perché, raga, cioè, è terribile. Ragazzi, martedì, non so cosa fare con i capelli perché mi fanno schifo, ragazzi, sono orribili. Mi ha riflesso, i capelli. Ho accoggiato il nuovo papazzello. Il momento più bello della giornata. Finita la scuola. Buongiorno, raga. Questo è per tiratore alla fine, mi piace tantissimo. Non lo prendeva tanto perché il magliancino bello mi sta malissimo, però mi piace, mi piace. Ho provato. Detto questo, sono le due venti, adesso ho tipo una ventina di minuti per bozzare un po' di studio, mettere un po' di cose a caso. Poi devo volare ai pop, spero che finisca per le quattro e un quarto, perché devo volare a casa a studiare come una scema stasera alle sette alla prova di kickbox. Quindi oggi faccio i pop e kickbox. Oggi ho idea di cosa, spavate, vabbè. Quindi non ho avuto tempo per vedere mappe, perché domani è una verifica, quindi oggi studio pazzo, mega disperato e un allenamento. Sì, raga, ho finito i pop e sono arrivata a casa. È da un'oretta che studio e ora devo tornare. Ho fatto una pausetta giusta di dieci minuti, devo riprendere la serie. Forse è cresciuto, diciamo, mi è cresciuto, faccio. Sempre io, sempre qua e in mezzo ho fatto un box. E non mi è piaciuto, sinceramente non mi è piaciuto, ho durato due ore infinito. Non c'è musica, io ho bisogno di musica quando faccio sport, quando mi alleno. Box non fa per me. Buongiorno, guardate come sono bella. La mattina è molto presto, con il mio fantastico cappuccino. Raga, che bello. Oh, bello studiare. Mi sento un po' più pronta, ma non prontissima. Comunque adesso per la scuola chiedi, così continuo a ripetere le trame. E questa è la linea che ripeto, che domani non ho avuto, non ho iniziato a studiare. Oggi devo studiare le capelli inglese, perché domani non lo verifica. E quello di oggi non è neanche troppo male. Poi sarà bello questo weekend, ma non mi crea molte aspettative, perché i weekend vanno sempre a finire male. Detto questo, il programma di oggi è assolutamente studiare, viene matto e stiamo un po' in sé, perché ieri non ci siamo visti. E dopodiché, stasera ho una prova di pop in un'altra scuola, che non è la mia, ma giusto per vedere com'è e fare un paragone. Mi manca ancora tantissimo studio. Tantissimo studio. Raga, ho appena cenato con del cuore della zucca e, che dire, è la seconda sera che c'erano le 9, è una cosa abbastanza difficile. Box bocciatissimo, stasera ho provato di pop, raga, mi è piaciuto moltissimo. C'è un altro corso non è il mio. Si fa di due ore, un'ora è tutto preparamento, quindi tutto cardio, abs, gambe, preparamento, potenziamento. E la seconda ora è di pop, solo un po'. Perché mi piace un sacco questo corso, per livello anche l'orario. Però non posso neanche abbandonare l'altro. Raga, buongiorno, devo alzarmi alle 6 e ripassare, non mi sono messo alle 6, ho totalmente iniziato la sveglia. La verifica andrà come andrà e il sera non ho anche finito di studiare, perché ho ritigato con Matte e qualcuno si è voluto mettere in mezzo alla nostra relazione. È stato strano male e lì ci sto ancora male, ho molto paura e quindi non c'è una giornata che mi sono molto male. E non c'è però di farla verifica, ma non avrò mai la concentrazione ovviamente per farlo. Però questo è un soltanto qui, perché siamo fatto un TikTok per Shane e per quello vi trovate uscita così, letteralmente da cowboy. Ok, per vedere se non è un po' fino. Che dire questa camicia, mi piace tantissimo, mi do sempre queste vibes belle. Allora, il programma di oggi, mi sono un po' ripresa, sto un po' meglio perché sono un po' più tranquilla. Andare in centro adesso, parlare un po' con la Ginny che è la mia migliore amica. Cina le voglio un sacco bene, quindi le racconto un po' e parliamo un po'. Poi vedo da Matte e cerchiamo di parlare, insomma, di chiedere. E basta, poi devo studiare e pensavo di andare in palestra, insomma, per le 5 e mezza. Perché stasera ho video di andare con Matte a fare l'aperitivo, se li salutiamo se tutto va bene, appunto, usciamo di lui. Perché non passo del tempo con lui da un po'. Ora questo outfit, appena creato. Alla fine sono da correre, sto uscendo, questo è l'outfit total black. Raga, mi vedo molto bene, sono molto riuscita di questa cosa, finalmente. Sono nel panico più totale perché mi hanno appena detto che devo fare tipo un corso di sicurezza. Cioè, i secondi di doverlo fare per questa possibilità sono 3 unità e dove ho fatto tipo entro mezzanotte, quindi... solo un po'... Ma, troveremo una soluzione a questo come troveremo una soluzione a tutto. Sì. Nulla, quindi adesso esco da fare l'aperitivo con Matte, abbiamo risolto, quindi sono felice. E nulla, cosa l'ho fatta, ho un po' studiato, ma... Come faccio? Non lo so. Andiamo a fare l'aperitivo e non ci pensiamo. Oggi è quest'outfit che non si addice tanto alla giornata. Venerdì, sono felice e niente. Come ogni minuti... Un sacco dovrà... Pfff, sto proprio male. Ovviamente faccio tutto pur di non studiare, quindi ovviamente mi ridurrò all'ultimo. Questo weekend deve essere un weekend di insegnare in uno studio. E niente, questo è l'outfit di stasera, tutazza. Appena messo un po' di oletto nei capelli che ho lavato. Preparato tutte le robe perché adesso vado a casa di mia zia a fare una cena con le amo. E ci prendiamo la pizza, siamo un po' tra noi. Poi viene anche Matte e ci raggiunge. E niente, stasera è molto cielo, insomma siamo in casa anche perché non la voglio ad uscire. Ciao a tutti.